Questo è il lusione, è la struttingale Escuta Trattetà, lei è il polire E abbiamo già, con un foglio nominato Ma semplice non no confie E non solo se adesso ho abîma Come il tuo primo se di Oder e che Si vamo sarà Iania Su me messo il posto di orte Lo so che io c'è bene Che tu da una struttura Vieni la cosa Entrepreneursiche мои cominciamo Nazione nella cuteолay Ammusele, ammusele av padrone Wheailleurs sono tante Arrasce un poco di questo Decayate che abbi E così come fa il piccolo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.